Buongiorno a tutti, Claudio Recalcati, vi dico due cose su Claudio che è milanese di generazione, abita a Milano, ha sposato una figlia, se dico bene, due figlie, è iniziato piuttosto tardi, anche se può tardi per modo di dire, perché vedo che non è anziano, è iniziato piuttosto tardi e essenzialmente, con la poesia ovviamente, è l'ultimo libro che è uscito per Mondadori, se si può dire, non mi vengono altre aggettivazioni, l'ha un po' consacrato da un punto di vista poetico, è un libro molto bello, Microfiabe, gli altri due libri sono usciti per Campanotto in particolare e l'intervallo piacevole di aver vinto l'importantissimo premio montale che praticamente dice della profondità e della validità della sua poesia. Nella vita fa il bancario, perché come sapete di poesia si vive poco e quindi praticamente il suo lavoro quotidiano è quello del bancario, mi viene in mente che anche Gian Piero, Gian Piero Neri, scusate, Gian Piero Neri che è stato un amico di Saronne, ha venuto parecchie volte qui a dire i suoi versi, faceva il bancario, forse anche un altro... Gian Piero Maiorino. Maiorino, perché prima di aver fatto l'insegnante ha fatto il bancario, insomma, hai anche degli illustri grandi laterali che sono passati per la banca o l'assicurazione praticamente, vede, questo è il suo lavoro. Io più di altro non devo dire perché a questo punto ti faccio leggere le tue cose iniziando dal percorso che come sai quest'anno è il percorso del ritornare con la memoria ai versi di chi non c'è più, che poi significa anche che il poeta in qualche modo riconosce, insomma, come dire, uno start-up della propria vicenda poetica ad altri versi che lo hanno in qualche modo avviato, che rappresentano ancora oggi probabilmente un punto di riferimento. Credo che si riferisca, per quanto riguarda Claudio Garcati, a Gugoni e in particolare a Sapa. Ho detto bene? Campana. Campana. Campana e Gugoni. Campana. Ho detto proprio tutto. Parto con due poesie, innanzitutto vi ringrazio per essere qua, parto con due poesie, di due poeti che hanno particolarmente influenzato i miei testi, al di là dei recitari soliti, Montale, Saba, Ungaretti e così, sono due poeti che vengono poco letti ma che hanno veramente influenzato la mia scrittura. Unedino Campana è una breve poesia, la leggo intera, è O poesia tu più non tornerai. Eleganza, eleganza, arco teso della bellezza, la carne è stanca, Sannebbi al cervello si stanca, palme grigie senza odore si allungano davanti al deserto del mare. Non campane, fischi che lacerano l'azzurro, non canti, grida, e su questa aridità furente la forma leggera dei sacri occhi bruni ondulante portando il tabernacolo del seno. I cubi degli alti palazzi torreggiano, minacciando enormi sull'erta ripida nell'ardore catastrofico. E l'altra invece di Corrado Govoni, e Corrado Govoni mi ha influenzato per alcuni toni ogni tanto un pochino più allegri, questa non è una delle sue poesie allegre perché è dedicata alla morte del figlio ucciso me ne fosse ardetini. Se una cava di rossa pozzolana incontro intorno a Roma e sono tante, il cuore mi si stringe perché vedi in essa rinnovarsi il tuo martirio. Se mi guardi scoppi, cacciatore, se giù dal cielo un'ala ebra di canto sbatte o rombo di zampillante mina di nera terra, il cuore mi si spezza, che non i colpi innocuo o sanguinoso sento l'eco di quello che tu uccise, che cosa t'hanno fatto figlio mio, gli uomini e a me, che cosa ha fatto Dio. Leggo qualche mio testo, a partire da a partire, mi pare di aver indicato questa, sì, da Dio e Fadel. È, porre fine alla crudeltà questo, noi due felici, fra tanti volti. Arresi alla felicità, non credi, senza muoverci, danziamo un waltzer. Qualche canzone popolare, una ballata americana, con ritocco di un celtico suono provinciale. Mi muovo e non posso, non dovrei, mi attrae, l'osso scarnificato nel piatto, la strana lingua che usi per scherzare, e monaco, è nostro, ti disigliozzo appena, Pfeiffer, Huber, Danke, Auf Wiedersehen. Per la cronica, gli ultimi quattro versi, non sapendo io il tedesco, sono soltanto fonetici, così, sono inventati e collegati l'uno all'altro. Nella verde laguna bavarese, ma poi l'impulso, la voglia di viaggiare, il menbir in altri luoghi sconosciuti, non è un tour gastronomico, ti dissi, la prima a destra, poi a sinistra, e vi saluto a Uffiderzen. Con quel bagaglio a Vipiteno, Innsbruck, Monaco, Augusta, e poi il Danubio, schivando il numifragio, potrebbero, fantastiche chiese luterane, inchiodarci a nord di Monaco. Ma è tutto un dolce di nocolarsi, Sveiswalt, Renzimmer, frae troppa caviglia, esile muso. Accuso il colpo, che meraviglia, dopo le otto è tutto chiuso, nemmeno un gatto osa. Grazie. Tu ora dormi nel verde immacolato dei ricordi, verdi come Hulm, Azzate è un borgo, di noi tutti sogno, ricordate i luoghi ed i fantasmi che nell'estate come figurine collezionate dormono con te, volto medievale. Credemi che sarei venuto in questi luoghi con un volto banale. occorrono anni per capire che vai dove tuo corpo, inspira e avvolge il mondo, si frantuma, deruba i volti al passero, la schiuma al fiume e diviene mondo dove il mondo, tra sale. Leggo questa tre ladri, che è dedicata praticamente alla giorno, al pomeriggio, alla sera, che sono sempre momenti che ci derubano di qualcosa. Regalano molto, ma spesso derubano tutte e tre qualcosa. Siamo soli, questa notte circondati, da nuvole di fumo e da squillanti voci che all'improvviso irrompono e devastano gli arredi, le navate. È tanto se arginiamo la ferita col cemento dei muri, col grasso respiro del sonno. E nel silenzio non osano gli illesi muoversi, non osano i bimbi piangere, poiché è dei feriti l'urle per pochi attimi di silenzio venderebbero porzioni di costato, un lembo delle labbra. E soli questa notte, non turbati dalle sirene che annunciano la morte, dal gioco disperato delle luci possiamo ricostruire una vita e per pochi grammi di silenzio vendiamo la solitudine, i millenni, le rari frasi palpitanti e informi e nella notte calcitranti ed estati in un incubo di lacrime resa carcassa la nostra nobiltà. Urliamo! Secondo me mi sentite anche così, così mi levo dall'imbarazzo di questo microfono traballante. Facciamo la prova, dai. L'alba. Sono tre le soluzioni credibili, le intuisco osservando le palpeve di mia figlia, la più piccola, il corpo disteso di mia figlia maggiore, il gomito rigido di mia moglie, elaborare il sonno, godere il sonno, combattere col sonno. all'alba i volti si narrano, i gesti scompongono le imperfezioni, ci si scambia il dono dell'affetto e il sorriso è un mercato di silenzi. Chi sveglia il padre? Chi gli svela che questa notte ha urlato? Il giorno. La luce irrompe a strisce, restituisce i corpi al giorno, divora febbre degli arti, ingoia il tempo del respiro, muove la glottide cannibale, stira le membra, ci precipita nel multicolore dei vicoli inondati. Poi termina con un piccolo verso, questa brevestione, che è una cartolina e che dice potessi almeno quantificarti il niente di questo dolore acuto senza luogo. Dov'è? Un'altra sezione. Sì, questa è una poesia a sé stante, in una delle tante sezioni. È una poesia che è dedicata a mia figlia più piccola, a Sofia, che tra l'altro è lì, lo sapevo, si nascondeva, è un classico. Però lei mi segue, è una delle mie, come i Rolling Stones, ho le gruppi e mi seguono. Sentitola Piumino il racconto. Muta lo stato d'animo, non il sogno. Non posso raccontarti i mirabolanti fiabili di un contorno di bambini in Pasqua all'orco. Posso narrarti sul ritmo incandescente dei passi di tua madre, un tip-tap che ritma i giorni, elude le paure, travolge, non conoscendo altre discipline che punta e tacco, punta. Dio, come siamo eleganti, mamma, siamo eleganti. Mi fa un po' pena l'orco, routine, anima e baffi. questa è la parte che ogni tanto di allegria che esce nella mia poesia e che ho arrenditato dal Govoni, non letto prima perché purtroppo da quel momento in avanti Govoni non sarà più l'artista di prima, non sarà più l'uomo che usa le parole per far anche sorridere la gente, brillante, scintillante, ma diventerà ovviamente un poeta molto più intimista perché insomma è la tragedia che ha vissuto. Io lo dico sempre, credo che sopravvivere alla morte dei figli sia forse la cosa peggiore del mondo. Non so nemmeno se, cioè non voglio neanche pensare perché non so se riuscirai a sopravvivere. Questo lo dico. Campana, a Campana Govoni ha avuto questo coraggio. La sezione che invece leggo adesso si titola Tre quadri. Sono tre poesie ben differenti che hanno, che narrano un po' di me, della mia vicenda, però diciamo che poi non si narra mai solo di se stessi, si narra per lasciare, donare, sperando di donare al pubblico o qualcosa che il pubblico faccia proprio, se no la poesia diventerà un semplice diario, diciamo, e così non deve essere. Controritratto. Madre per raro non il sogno che cova nel ventre morbido della bestia, nel cuore di ogni società che non conosce altre regole che il baratto. Li guardavo lavorare per me e soffrivo ogni loro ruga incandescente, ogni ruga colmata dalla saliva del mare quelle tracce di sale fra le pieghe, sui denti, sulle piaghe, lottavano per pochi metri di mare, si sgozzavano in nome di un ordine occidentale che reclamava coralli, cappio al collo di nobili donne europee. Non che soffrissi per quelle terre lontane ormai come l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, era vederli cani da caccia, contendersi la preda ed aspettare la morte di qualcuno per sottrargli metri di sabbia dove tuffarsi, di rocce dove rischiare, l'ultimo affondo. Erano uomini disperati e liberi, erano uomini di poche parole, Cuba e libre, una canzone scordata, una visione come passaggio d'alberi da un treno, un terno all'otto se riesci a decifrare conifere, pioppi, inganni del terreno o resti come un demente osservare terre, uomini e nomi follemente illusi. Ma io dovevo ogni volta fustigarli, frustarli col chiaro nervo di bue, impormi, sapevo che se li avessi abbandonati sarebbero scomparse le mie glorie, loro sarebbero tornati volentieri all'era del baratto, che fosse zucchero corallo non vi era differenza, non conoscendo pulenza e oro, non conoscevano il ristoro che tradisce le menti, l'idiozia del riposo, vivevano in un riposo di palpebre innocenti. Grazie. Autoritratto Cartolina da Moltrasio Moltrasio è un paese tutti voi lo sapete probabilmente sul lago di Como dove ho vissuto gran parte dell'infanzia. Sapessi sono tornato e non è molto ma molto mutato il paesaggio è ben più oltre la prospettiva ricorderai senz'altro le querce secolari nient'altro che una geometria di scarni pioppi e riflessi. Quanto perdersi e innamorarsi e oggi sono chiazze e lago una palude potresti morirne tu che continui a rivistare nei ricordi e se nel fondo delle tasche trovi briciole non riesci poi a morderle. Solo il gran baratro conserva intatta la sua bellezza ed è un monito come l'attenti al cane sui cancelli delle ville padronali. Ho udito la tua voce come allora ho avuto paura sulla stretta via la stessa che pareva un'autostrada la stessa dove l'urlo dei freni ti colpiva o il figlio del lattaio soccorrevi col cuore in gole già intuivi che nulla porta al bene come il male. non ho pianto per senso del pudore quel sentimento sul quale ti accanisci ore e ore lasciandomi sorpreso ti riconosco mentre attraversi il viale temi le formiche le loro voci e tutte le falene spaventate l'abbecedario dei caduti non più saprai il brimido sottile scivolo sulla colonna vertebrale immensa scossa ma riconoscerai d'una per d'una la tua fragile radice d'ossa ritratto cartolina da spedire così giungerai come da altri mondi si giunge narrata in un racconto di quelli che piacquero a tuo padre i grandi russi i francesi ottocenteschi e di quell'era forse porterai il nome le fattezze e una nobile fierezza che il mondo non conosce più un'alba rigida ti accoglierà scorpione un'alba rigida assolverà le tue paure un'alba rigida come la schiena di tua madre come vede la vita tuo padre ti accoglierà all'improvviso e urla lancia furente il viso verso il cielo reclama la tua possibilità di inabissarti nella lussuria la tua possibilità di essere dominatrice ti guarderemo ti abbracceremo noi una famiglia che ha conosciuto il novecento e sarai bella come un canto come un presagio di rinascita grazie a tutti io direi mettiamo da parte un momentino questo libro poi ci ritorniamo perché ho visto una cosa che volevo farti leggere di rinascita mi 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 Grazie.